Siamo con l'ambasciatrice Laura Mirakian, lei è stata ambasciatrice in Siria, come vede vista la situazione attuale della Siria, una guerra civile che ormai dura da anni e varie anche controversie che riguardano il leader politico Bashar al-Assad che è ancora lì però fino all'anno scorso sembrava traballare, come vede adesso anche viste le infiltrazioni dell'estremismo ulamico questo paese? Qui è una domanda un po' complessa, ma insomma cominciamo dalla fine, in questo momento in cui noi ci stiamo parlando ci sono tre forze che stanno bombardando l'Isis, sono i Reitz americani che conosciamo, sono gli iraniani che sono entrati anche loro con i loro aerei e sono l'esercito siriano, quindi l'esercito siriano che fa capo naturalmente a Bashar al-Assad quindi è una situazione paradossale in cui da un lato stiamo demonizzando questa Siria ufficiale e dall'altro di fatto è una forza che fiancheggia i nostri obiettivi, il nostro obiettivo primario che è quello di combattere questa forza terrorista che non ha uguali probabilmente nella nostra storia, almeno in quella recente, l'Isis ha un po' sovvertito, anzi ha completamente sovvertito i parametri tradizionali con cui noi ci confrontiamo normalmente in situazioni di crisi, siamo abituati a pensare che c'è una parte di buoni, una parte di cattivi, una parte di mediani che si possono recuperare, una parte di recuperabili, qui in realtà stiamo maturando l'idea che c'è una parte da combattere con priorità assoluta ed è questo cosiddetto Stato islamico che usa i metodi particolarmente feroci che conosciamo, che ha un'expertise particolare per quanto riguarda la comunicazione mediatica che ormai ha contaminato non soltanto lo scacchiere siriacheno ma con quest'idea di califato praticamente dalla Libia all'Africa profonda, la penisola arabica eccetera. Quindi c'è questa situazione in questo momento molto paradossale che in qualche modo sconvolge i nostri parametri e se certamente Bashar al-Assad e diciamo il regime siriano ha delle responsabilità obiettive nelle origini di quello che sta succedendo è chiaro che non è più considerato il nemico primario insomma. Io conosco molto bene l'Assad, ho conosciuto anche il padre perché arrivai in Siria praticamente che lui era ancora in carica e quando morì fu veramente ricordo un momento epocale nella storia non solo della Siria ma del Medio Oriente e forse anche oltre il Medio Oriente. Loro sono una famiglia molto rinomata, Bashar al-Assad ha studiato a Londra o Pulisci, si tratta anche di una famiglia con una certa insomma... Loro sono contrariamente a quello... Loro sono anche apertura volendo. Beh insomma apertura non lo so però certamente non sono una famiglia rinomata, sono una famiglia di origini molto modeste, questi al-Auiti che è la minoranza a cui appartengono è gente in qualche modo di montagna che quindi non viveva nelle città tradizionalmente ma piuttosto immarginata dai centri di potere sunniti all'epoca. Il padre fu diciamo reclutato dai francesi in questa accademia militare che i francesi stavano formando appunto prima di lasciare il paese indipendente e quindi fece carriera lì e in qualche modo fu il riscatto non solo della famiglia molto modesta anche nella compagine al-Auita ma degli stessi al-Auiti che alla fine ha preso il potere, il padre da capo di stato maggiore divenne ministro della difesa poi da ministro della difesa ha preso il potere sia del partito sia del... Bashar al-Assad quando io arrivai in Siria dopo 40 giorni morì il padre e ci fu questa figura di giovane presidente addirittura dovettero riformare la Costituzione che prevedeva che un presidente non poteva avere 33 anni ma 35 e quindi ha dovuto abbassare l'età e veniva dall'Inghilterra dove aveva vissuto, aveva forse anche lavorato come oculista eccetera avrebbe sposato di lì a poco questa giovane Grace Kelly, anche lei educata in Inghilterra di famiglia naturalmente siriana ma che ha dovuto imparare bene l'arabo classico per presentarsi in pubblico perché evidentemente suo arabo era un arabo un po' affamiliare quindi suscitò molte aspettative nella popolazione ed in effetti si parlò di primavera di Damasco il primo anno del suo mandato fu, 2000-2001, fu un anno di grandi speranze per i giovani e anche per tutta la comunità sunnita che non dimentichiamo è la grande maggioranza della popolazione siriana sono circa l'80% che ci fosse quindi una liberalizzazione del sistema, sia economico sia politico in realtà lui fece delle prime riforme di carattere economico per dare respiro un po' all'iniziativa privata consolidando queste aspettative ma non arrivò mai a un passo fondamentale che era quello di aprire il sistema politico come bastava riformare un articolo l'articolo 8 della Costituzione che prevede un sistema di partito unico, il BAS non si arriva mai, nonostante molti solleciti e anche molti consigli da parte italiana senz'altro e di altri europei e di altri occidentali non si arrivò mai a toccare quest'articolo 8 quindi ad aprire il sistema politico e naturalmente il sistema si basava su una coalizione di minoranze guidata dalla minoranza alla Uita certo i sunniti non erano emarginati, è impossibile emarginare 80% della popolazione i sunniti erano ancora adesso l'esercito siriano è composto in grandi maggioranti sunniti però al vertice del regime erano la Uiti molti anche appartenenti alla famiglia SAD